Davide Cassetti, direttore generale di Acta Energy, buongiorno. Buongiorno. È sempre attivo nel settore dell'idrogeno e nel settore dei veicoli ecologici in generale perché non solo tanto di nautica, anche se qui parleremo di nautica, però Acta Energy si occupa sempre di veicoli ecologici. In questa fase stiamo cambiando un po' la nostra filosofia aziendale, nel senso che ci siamo concentrati molto sulla nostra tecnologia, quindi sulla generazione dell'idrogeno e sul suo utilizzo. Abbiamo coinvolto diversi partner che ci stanno aiutando nel completamento di tutte le applicazioni. Quindi Acta rimarrà focalizzata sul suo business originario, che è quello della ricerca e sviluppo di sistemi per la generazione di idrogeno che siano sistemi facili da usare ed economici. Per quanto riguarda le applicazioni, invece, tutto ciò che noi abbiamo sviluppato finora, che avete già visto, quindi il motore elettrico, il generatore di corrente, la pensilina generatrice di idrogeno, sono stati affidati a nostri partner che per nostro conto stanno completando i singoli progetti e noi poi ci occuperemo della commercializzazione. La sua volta però noi abbiamo fatto un'intervista con l'ingegner Valli in occasione della fiera di Carrara quest'anno e abbiamo visto questi prodotti, però comunque sono prodotti che vanno sviluppati permanentemente in Acta Energy, anche se visivamente sono esattamente uguali. Esattamente. Rimarranno gli stessi identici prodotti che abbiamo sviluppato o che abbiamo completato noi in Acta. Noi abbiamo solo la necessità di continuare a svolgere il nostro lavoro, che è quello di sviluppare tecnologia. I partner ci accompagneranno dal punto di vista industriale. Adesso io non so se si può dire, però Acta Energy è attiva anche a livello internazionale, ci sono diversi accordi commerciali con altri paesi, non voglio dire quali, anche perché non li conosco, però sta andando avanti tutto questo lavoro di partnership con altre aziende per sviluppare sempre nel settore dell'idrogeno diverse tecnologie? Sì, sta andando avanti. Sono accordi che riguardano l'utilizzo di carburanti rinnovabili. In generale. Sono accordi che ci consentiranno di sviluppare tecnologia, è ancora prematuro parlarne, però di sviluppare tecnologia che consenta il risparmio di carburanti fossili nell'ambito della mobilità, ma anche nell'ambito della produzione di energia stazionaria. Credo che entro la fine di quest'anno noi saremo pronti per presentare al mercato le tecnologie che stiamo sviluppando nei nostri laboratori. Uno dei principali progetti che io so che avevate sviluppato tempo fa è un brevetto per collaborare con delle casse automobilistiche per l'iniezione di idrogeno nei motori a scopio. Anche questo sta andando avanti e che prospettive ci sono a tempi brevi? Andando avanti stiamo procedendo nel nostro processo di test sia in laboratorio che su strada con tecnologie parallele per vedere quale sia effettivamente la tecnologia più efficace in questo tipo di applicazione. L'applicazione è quella di iniezione di idrogeno nell'area di aspirazione dei motori credo che anche questo nei prossimi 3-4 mesi avrà il termine naturale del test protocol e potremo finalmente definire il prodotto e lanciarlo sul mercato. E quindi vedremo in un prossimo futuro un motore di una macchina che si vende normalmente dove ci sarà scritto Hydrogen Injected by Act Energy? La questione della collaborazione con le case automobilistiche è molto complicata. Molto? Il nostro obiettivo è quello di cominciare subito con l'aftermarket che è il mercato più immediato dove l'evoluzione tecnologica si può sviluppare molto più velocemente. Le case automobilistiche hanno i loro tempi, abbiamo contatti, abbiamo continui scambi di informazione, sarà un processo molto più lungo. Il fatto di avere anche dal punto di vista commerciale il mercato dell'aftermarket, quindi il privato, che richiede la tecnologia impedirà poi in un futuro di evitare che le case automobilistiche blocchino questi progetti sul nascere. Invece riguardo al settore della nautica, ci sono stati presentati l'anno scorso dei gommoni a idrogeno. Le case nautiche sono anche propense a uno sviluppo di questa tecnologia o sono molto più chiusse, diciamo così? Devo dire che una volta che gli armatori hanno cominciato a chiedere questa tecnologia, allora anche i cantieri nautici si sono affacciati. Quindi noi siamo nella zona di Pisa, di Livorno, è un centro di cantieristico molto forte. Abbiamo cominciato a ricevere le prime richieste di collaborazione.